Sono Sara Radrizzani, membro del consiglio di ADR Group e in azienda sono responsabile marketing. ADR produce assi e sospensioni per il mercato agricolo e industriale dal 1954. Mi sono iscritta al gruppo giovani per conoscere persone che vivevano esperienze simili alle mie, quindi potesse cambiare con loro opinioni, esperienze di vita e poter arricchirmi con i loro vissuti. Ho poi scoperto un mondo di crescita e formazione strutturate molto utili per il mio lavoro in azienda. Per me la sfida è stata trovare il mio ruolo in azienda. Non avendo un diretto responsabile la difficoltà per me è stata riuscire a darmi degli obiettivi e riuscire a valutarmi in maniera critica. Successivamente la sfida è diventata definire le strategie dell'azienda unendo la continuità all'innovazione. Per me l'impresa è una sfida che si affronta tutti i giorni per migliorarsi e migliorare l'ambiente circostante e lavorativo. Per me il gruppo giovani è un gruppo di giovani che condividono, imparano e diventano grandi. L'impresa nei prossimi anni sarà hashtag resilienza, cioè capacità di adattarsi al cambiamento e perché no anticiparlo.